Tranquillamente intorno tra il Cinquecento e il Seicento, negli stessi diari di Pigafetta e di Magellano, si racconta anche che le avevano catturate, le avevano portate sulla nave, le avevano battezzate, ma dal 1700 in poi questi racconti sono diventati appunto dei racconti di mito. Di tutto, è stato trovato tutto, quando si parla dei giganti no, quello è falso, ecco, insomma, non è proprio così. Bene, abbiamo qui con noi Edoardo Orma, autore del libro I Giganti, una specie dimenticata. Ciao Edoardo! Ciao Giorgio e buonasera a tutti quelli che ci stanno guardando in questa bellissima puntata, grazie. Bene, bene, benvenuto. Ascolta Edoardo, cominciamo subito dal principio, insomma, no? Chi è Edoardo Orma? Perché io immagino che ci saranno tante persone che ti conoscono, ma altre tante che magari non ti conoscono. Quindi, chi è Edoardo Orma? Beh, sicuramente è un appassionato di materie un po' particolari, no? Quelle che ci piacciono studiare sull'arco misteri, sul mondo del paranormale, sul mondo degli UFO e quindi su tutto quello che riguarda la paleoastronautica e quindi tutto ciò che è stato eventualmente un contatto avvenuto in un'epoca passata con la nostra umanità. Ecco, mi piacciono questi argomenti, li seguo da quando ero un ragazzo. Poi nel tempo ho avuto modo di approfondirli perché abbiamo la fortuna oggi di utilizzare YouTube che ci dà la possibilità di ascoltare conferenze, riunioni, manifestazioni e quindi da lì ho cominciato poi sempre di più a approfondire. Poi c'è stata una svolta intorno al 2020 quando ho aperto un canale, un canale simile a quello che stiamo usando adesso che si chiama Oltre la Storia, edito da TV City e da allora ho cominciato a intervistare autori come abbiamo intervistato te insomma poi casomai ci mettiamo il link della nostra chiacchierata precedente e quindi da lì poi nel tempo, negli anni ho cominciato a fare personalmente delle ricerche sempre più di dettaglio e quindi l'esigenza poi di scrivere un libro è nata proprio per questo motivo perché questa ricerca in particolare non ha riscontri oggi da un punto di vista editoriale c'è veramente poco e quindi mi sembrava giusto gettare un po' di luce su questo aspetto che è ancora poco studiato. Ecco questa è una piccola sintesi, ho 48 anni, sono di Torre del Greco, ho sposato, nella vita faccio tutto un altro mestiere però questa è una passione che coltivo, sta cominciando ad essere qualcosa sempre un po' più strutturato perché già è in piedi un altro lavoro sempre sui giganti, ci sono una serie di situazioni che sto portando avanti perché insomma poi l'appetito viene mangiando ecco. Nel tuo libro I giganti, una specie dimenticata, Homo gigantis, una storia ancora da scrivere di Enigma edizioni tu parli appunto di giganti e trovi interessante il lavoro che hai fatto perché tu hai fatto un lavoro di verifica del materiale anche che si trova online. Sì, allora il libro nasce con una doppia finalità in realtà, quella di dare con assoluta certezza storica la presenza di esseri umani alti più di 3 metri sicuro, quindi lo do per assolutamente certo che nel nostro passato, anche abbastanza recente, parliamo anche del 1600-1700 c'era questa specie umana che io ho voluto rinominare, distinguendola dall'Homo sapiens, appunto come Homo gigantis chiaramente non è un conio scientifico, dovrebbe essere Homo gigas però gigantis suona meglio anche per farlo capire e ricordare alle persone e sempre per differenziarlo da quella che è la nostra specie che è più alta, di 1,80-1,70-2 metri possiamo arrivare a 2,20 metri ma poi nel corso del tempo quando l'Homo sapiens comincia ad avere delle altezze superiore allora ci sono un po' di problemi fisici, l'essere umano non è programmato per la specie nostra sapiens non è programmato per arrivare a superare certe altezze invece questa specie di Homo gigantes poteva tranquillamente arrivare almeno ai 3 metri e in alcuni casi anche superare i 4 metri insomma adesso casomai ci entriamo sempre più nel dettaglio questa è la prima parte concettuale del libro dare una certezza storica che avevamo nel nostro pianeta la presenza di questa specie l'altra parte è quella di far capire che tutto ciò che ruota attorno al mondo dei giganti deve essere preso con le pinzette perché tante volte quando si comincia a leggere e a fare delle ricerche superficiali in rete si trova di tutto e quindi quando cominci a credere che in realtà c'erano dei giganti di 10 metri ecco io questa è la seconda parte del libro cerco di smentire e di far capire che queste altezze sono frutto soltanto di carattere mitologico quindi non nulla di storico ma parliamo di fatti che non sono mai accaduti di persone o personaggi che non sono mai accaduti ma che nel corso dei secoli e dei millenni sono stati mitizzati e quindi poi le altezze sono arrivate anche a questi numeri insomma 20, 15, 10 che in realtà assolutamente non è così quindi ha questo duplice obiettivo ok da dove nasce questo interesse alla fine dei conti per i giganti cioè lì tu abiti alla Torre del Greco hai detto hanno trovato magari qualche osso di gigante nel passato oppure è una tua passione e basta avevo finito nel 2021 un romanzo su una ragazza che veniva rapita dagli alieni che lo trovate anche in internet si chiama proprio la ragazza che parlava alle stelle quando finì quel libro, quel romanzo fortuitamente trovai all'interno di alcune mappe antiche perché insomma questo faceva parte del romanzo trovai all'interno di una mappa specifica un'isola che si trovava in questa mappa antica del 1500 tra l'India e l'Antartide quindi siamo in pieno oceano indiano al centro di questo oceano indiano c'era una mega isola grandissima grande come l'Italia tanto per capirci quindi era lunga e aveva un nome e cognome questa isola si chiamava proprio Zanzibar l'isola dei giganti un fatto curioso che io ho cominciato a cercare per avere un po' di notizie su quest'isola e non ho trovato nulla e quindi cercando cercando mi è salita l'idea di realizzare poi un testo che comprende anche questa storia di Zanzibar dell'isola dei giganti però poi sono andato un po' più avanti a 360 gradi partendo dalla preistoria dell'umanità e quindi tornando anche indietro di centinaia di migliaia di anni quando esisteva sicuramente una specie ominide che si chiamava Homolongi che era alta 2,30 m quindi era una specie che scientificamente archeologicamente sono state trovate ossa, mandibola e tante altre cose e hanno misurato questa specie a 2,20 m quindi in un passato avevamo sicuramente una specie umana vicina alla nostra che era alta più di due metri ecco partendo anche da lì pian piano seguendo tutta una serie di indizi sono arrivato poi a definire appunto questa specie che non è mitica perché nei libri di storia la si raccontava tranquillamente intorno tra il 500 e il 600 e quindi questa specie umana di Homo Gigantis la ritroviamo proprio in tantissimi resoconti storici di quel periodo là considera che quando i primi esploratori che hanno cominciato a navigare il mondo arrivavano sulle isole sconosciute e quindi approdavano a terra incontravano di tutto perché c'era la flora e la fauna insomma in alcuni casi nel nuovo mondo completamente sconosciuto e per esempio abbiamo il libro per intero di tutta la storiografia del viaggio di Magellano e quindi del suo equipaggio che ha percorso tutta la Patagonia per poi superarla e andare nell'oceano Pacifico ecco, quelle zone territoriali lì quando Magellano è approdato su quei territori là lui lo dice chiaramente che ha incontrato gruppi di esseri umani alti il doppio di loro proprio per identificarli lui dice che l'uomo dell'equipaggio più alto arrivava giusto alla cintura di questi giganti che noi comunemente chiamiamo i patagonesi i giganti della Patagonia ma dal 1700 in poi questi racconti sono diventati appunto dei racconti di mito perché si considerava che quella specie era frutto dell'invenzione di Magellano che voleva ingigantire il suo ritrovamento perché poi quelli del 1700 che erano passati negli stessi posti non avevano trovato più nessun gigante e quindi è passata la storia che era tutta un'invenzione un mito questo ritrovamento peccato che negli stessi diari di Pigafetta e di Magellano si racconta anche che le avevano catturate le avevano portate sulla nave le avevano battezzate abbiamo trovato il vocabolario di questa specie di giganti perché loro hanno cercato di dialogare negli stessi libri che ufficialmente vengono dichiarati per farsi si racconta della foca si racconta della fauna selvatica della Patagonia che abbiamo trovato dei fiumi che abbiamo trovato di tutto è stato trovato tutto quando si parla dei giganti no, quello è falso ecco, insomma non è proprio così che si fa l'archeologia o la storia ma effettivamente io sono convinto che c'erano non solo nel caso specifico di Pigafetta e di Magellano ma ci sono stati e nel libro che hai citato insomma che ho scritto che appunto è l'argomento della serata ci sono decine, decine veramente e io le ho segnate tutte di diari di bordo di capitani, di comodori che quando arrivavano su territori nuovi loro scrivevano comunemente di incontrare con specie di persone alte 4 metri loro dicevano in alcuni casi che sono alti 10 piedi e quindi fai conto che un piede può essere 35 centimetri così in grosso modo quindi parliamo di 3 metri e mezzo perché il termine di paragone è loro sono 10 piedi noi siamo massimo 6 piedi e quindi questo paragone 6 piedi facciamo 1 metri e 90 loro erano sicuramente 70-80 cm più alti ed avevano una costituzione normale cioè si racconta che ballavano che si muovevano andavano a caccia si vestivano erano esseri umani comuni però erano 4 metri voglio dire sicuramente è straordinario come caso particolare ma non avevano alcun problema sociale voglio dire loro facevano tutto non li dobbiamo considerare come i grandi costruttori magari se qualcuno può pensare che nell'età antica fossero stati costruttori di piramidi di megaliti di grandi templi di quelli che sostenevano i pesi dei grandi menhir no ecco quelli che io ho citato e non solo in Patagonia non solo con i 10 casi 12 casi insomma di cui sto accennando stasera erano dei selvaggi erano dei primitivi che andavano a mezzi nudi portavano sulle spalle giusto un copricapo o una pelle che avevano cacciato insomma in quelle zone là e andavano con arco e frecce ecco erano a questi livelli quindi uno stato sociale e quindi un non avanzatissimo quindi erano anche un po' come dei veri e propri primitivi che però sapevano comunque parlare avevano una religione e loro ci raccontano della loro religione ci raccontano che avevano dei demonietti che ti vengono a prendere l'anima quando sei del muonire un fatto curioso è tu che hai studiato il mondo del precolombiano e quando Pigafette e Magellano sono arrivati lì il primo gigante che hanno incontrato gli faceva segno nel cielo dicevo voi siete quelli là che sono venuti dal cielo e questo ricorda tutta una tradizione maia che anche Cristoforo Colombo quando approdò in quelle zone lo scambiarono per una divinità venuta dal cielo e queste divinità che è venuta dal cielo insomma sono sempre ricorrenti e quindi io immagino che loro aspettassero così come i maia aspettavano il ritorno di qualche divinità che veniva dal cielo questi sono argomenti interessanti sicuramente interessanti a livello teorico quindi come tu stesso hai detto ci sono tanti aneddoti nel tuo libro tanti riferimenti anche a civiltà del passato ma la domanda io immagino che sorga spontanea anche a chi ci sta ascoltando esistono tracce archeologiche reali fisiche della presenza nel passato della terra di esseri giganti e per giganti intendo più alti di 2 metri e 20 2 metri e 30 che tu sappia allora oggi non abbiamo l'osso nel senso che non abbiamo nessun reperto autentico che sia stato misurato sia dalla scienza che dall'archeologia abbiamo sicuramente delle tantissime testimonianze storiche non solo in quei territori dell'america ma anche in centro america nel nord america gli indiani di america per esempio raccontano che loro personalmente facevano delle guerre con una civiltà più alta della loro di metri e metri io nel libro tratto un bel capitolo proprio su tutta la tradizione degli indiani d'america e ogni tribù raccontava della loro presenza di questa specie che in alcuni casi era anche cannibale rapiva i bambini e se li portava insieme da qualche parte ora la questione sull'osso e quindi su un reperto è un po' particolare io sono convinto che in passato sia stato trovato qualcosa sia uscito fuori ma per qualche motivo per qualche causa è stato fatto sparire tutto non ci vedo nulla di male nel senso che l'archeologia sicuramente farà dei passi in avanti su questo perché è l'anno zero di questa ricerca cioè prima di oggi prima di questo mio libro forse nessuno aveva trattato approfonditamente certi argomenti non voglio essere il primo chiaramente però alcuni temi specifici che ho trattato come per esempio l'isola di Zanzibor di cui ti dicevo prima di cui alcune racconti dei patagoni come ti dicevo prima sono assolutamente inediti io ho trovato alcune foto nei libri antichi del 1500 che in rete non vengono proprio mappate cioè se la ricerchi su google non esiste non esce niente perché probabilmente google non è riuscito a interpretare quell'immagine come insomma come ricerca e quindi l'ho trovata in maniera fortuna in un libro antico del 1500 in cui si parlava che un gigante di 4 metri era stato catturato portato in Europa e da lì volevano farlo girare per circhi per fare delle cose questo si è ribellato perché chiaramente non penso che a nessuno piaccia essere catturato e portato via dai territori con la forza questo ha spalancato a mani nude più di 16 persone e c'è una poi e quindi concludo con la tua domanda l'osso non c'è oggi ma io penso che sia sicuramente stato trovato in passato qualcosa che sia scomparso per qualche motivo che ancora non sono riuscito a capire perché non ci sta nulla di male però ci sta su questo aspetto un approfondimento magari non so se lo posso fare adesso perché tante volte in passato un po' in tante parti nel mondo non a Toro del Greco si trovavano delle ossa giganti dei femori lunghissimi e quindi nel passato soprattutto prima degli ultimi 200 anni si diceva abbiamo trovato un gigante poi oggi quando l'archeologia la paleoantologia va sul posto definisce quella era l'osso di un mammoth quello era un dinosauro quello era perché probabilmente in passato si è scambiati reperti ossei per uomini giganteschi mentre in realtà erano semplicemente degli animali non in tutti i casi però penso che sia questo faccio vedere qua c'è la pagina 80 del tuo libro il gigante di Castelnau immagine qua con delle ossa però tu stesso appunto scrivi che forse sono andate perdute se non ricordo male sono andate perdute e anche perché ho trovato i resti di un gigante qua c'è anche un articolo della Sardegna questi 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 articolo allora io ho trattato tutta una serie di ritrovamenti ossei perché poi se non fai bene il ritrovamento osseo dopo un po' questo si comincia a sbriciolare ecco tante volte chiaramente l'archeologia e la paleontologia sono nate non dico in tempi recenti però insomma negli ultimi 150-200 anni si è evoluta lentamente e quindi se si ritrovava come ti dicevo 300 anni fa un osso e questo poi se non tenuto bene veniva spappolato cioè il tempo insomma veniva e quindi però mi sembra in quel caso specifico si parlava che probabilmente era qualche vesto di mammut ok però non avendo fisicamente l'osso non lo possiamo definire in certezza cioè generalmente molto spesso ci si è sbagliati nella storia quindi no io penso che c'è stato un periodo in cui ci si è sbagliati soprattutto se si ritrovavano delle ossa giganti per esempio in alcuni di questi io ho trattato di ritrovamenti di teschi che avevano tipo 60 denti e allora oggi sappiamo che in quelle zone là erano ricchi di pesci e mari insomma che avevano tanti tipo test di squale eccetera è stato sicuramente un periodo in cui si è voluto immaginare che ci fosse un cimiterio di giganti quando forse in realtà non era così ma erano semplicemente ossa di animali preistorici non in tutti i casi chiaramente e invece riguardo la Sardegna perché quell'articolo di giornale riguarda appunto un sì quello è un articolo interessante perché qualche anno fa uscì sul libro della insomma l'elezione della Sarda questo ritrovamento di ossa perché la Sardegna è un territorio affascinante da questo punto di vista perché ci sono state tantissime persone che hanno trovato ossa di giganti però di queste osse non abbiamo nulla quindi sono poi tutte tradizioni orali che andrebbero chiaramente valutate di caso in caso perché non avendo a disposizione l'osso non possiamo valutarla e quei casi che tu insomma che sei uscito su quel giornale che poi tra l'altro è un fatto curioso quello di quel giornale perché se tu vai oggi sulla casa proprio dell'edizione di quella edizione Unione Sarda se non sbaglio e cerchi quel giornale puoi scaricare tutti i pdf e quindi di scaricarti tutte le immagini di tutti dalla storia quando è nata fino ai pochi giorni fa quel giorno là non trovi nulla interessante un caso di insabbiamento non lo so quel giorno non c'è allora io per poterla recuperare ho trovato ci sono delle funzioni su google che ti permettono di andare in time lapse indietro nel tempo quindi sono andato pochi giorni dopo quella pubblicazione sono andato su quel sito e me lo sono scaricato e lì si parla anche di alcuni sindaci che hanno dichiarato pubblicamente di aver trovato osso di giganti oggi quei sindaci stanno ritrattando io non voglio assolutamente criticare nessuno non voglio entrare contro nessuno però chiaramente se un giornale dà questa notizia qualcosa c'è poi non so se hanno ricreduto hanno analizzato e quindi poi dopo hanno deciso che insomma erano anche in quel caso ossa di animali ma noi non sapremo come è andata a finire però sta di fatto che in quel testo là si parlava proprio di questo così come noi abbiamo intervistato anche nel nostro canale Luigi Buscas che è oggi l'autore che sta scrivendo tanti libri su questo su questi ritrovamenti di giganti in Sardegna perché lui stesso ha quando era ragazzino insomma aveva dieci anni ha trovato una sorta di insomma di piccola tomba lui è entrato dentro per rifugiarsi si ha trovato una momia di 4 metri quando era bambino lui ci andava tranquillamente l'estate a giocare insieme agli altri amichetti con questa momia poi un bel giorno sono venuti sono venuti sono venuti in generale e se lo sono portati via quindi ci sono tanti racconti purtroppo che hanno questa questa storia finale sono venuti e se le sono portati via però la Sardegna sì la Sardegna penso che sia un territorio che ci può promettere qualcosa di interessante da questo punto di vista insomma ne ha parlato anche Roberto Giacobbo in diverse puntate di Freedom o ancora prima anche in altre trasmissioni esattamente lì viene trattato proprio sul caso di Freedom la cosa un po' curiosa è che lo stesso signore che fa questa intervista con Giacobbo e io ho messo nel libro proprio questo episodio su un altro canale riferendosi allo stesso ritrovamento allo stesso avvistamento lui cosa fa? dice tutta un'altra storia e allora anche qui è una cosa che si deve capire qual è la versione quella giusta la prima o la seconda? ricordiamo che ancora oggi comunque è possibile trovare persone alte più di due metri decisamente insomma io chiaramente quello che volevo far capire è che la nostra specie umana ci sono ritrovamenti anche di persone alte due metri e venti due metri e trenta che hanno una vita normalissima giocatori di basket alcuni lottatori di wrestling alcuni sportivi nascono con questa qualità di avere un'altezza superiore a due metri e dieci due metri e venti e fanno una vita regolare con una fisicità e un'agilità comune quando si va oltre è perché probabilmente ci sono nella maggior parte dei casi alcune malattie che ti debilitano magari ci sono dei tumori all'ipofisi del cervello che ti produce degli ormoni che ti fanno continuamente crescere e quindi quando arrivi a 2,40 2,50 cominciai ad utilizzare il bastone per camminare le ossa si cominciano ad atrofizzare le mani si incurvono ecco il corpo esplode perché non è programmato la nostra specie a superare certi libri infatti tu nelle ultime pagine del tuo libro fai una carrellata di persone reali vissute sulla terra in tempi anche recenti alte comunque sia per esempio Robert Pershing Valdorf era 2,72 comunque sia quindi parliamo veramente di un gigante però come tu stesso hai appena detto erano casi anomali diciamo non vissero neanche tanti anni perché appunto non erano malati erano malati purtroppo di tumori al cervello o comunque un qualcosa che ti potenzia ti faceva crescere all'infinito e quindi purtroppo insomma il corpo non reagiva bene a queste situazioni io nel libro come dicevi tu ho inserito tutti gli esseri umani che sono passati nella storia alti dai 2 metri e 50 in su che sono una quindicina non di più tutti tutti se li vedi tutti hanno il bastone camminano male insomma hanno fatto purtroppo per loro una brutta fine ma io ora la butto lì non è che per caso queste persone qua conservassero dei geni di una cioè di popoli antichi appunto di giganti magari magari non lo sappiamo nel libro tu fai anche una carrellata di testimonianze di esseri alti 3, 4, 5 metri ne parla anche Rodoto ma anche altri storici ricordiamo per esempio anche l'imperatore Massimino il Trace che comunque era alto 2, 40 metri cioè per esempio qua nel libro leggo anche del gigante Oreste che era alto 3, 90 metri il gigante Artreno circa 4 metri o il gigante di Tenerifeci addirittura più di 5 metri ecco l'ora che ti dicevo prima che aveva tantissimi denti da bocca chiaramente poi quelle zone sono state scientificamente riconosciute come popolate da animali e quindi cimiteri ecco lì in quel capitolo lì ho raccontato proprio quello che stai dicendo tu ritrovamenti sia di scheletri sia di ossa ma anche in qualche caso di ritrovamenti di persone in carne ed ossa che erano stati portati via insomma incatenati eccetera ora non abbiamo tante testimonianze perché chiaramente non abbiamo altro che quei racconti che ci hanno trasmesso i nostri predecessori quindi non sappiamo chiaramente come ti dicevo all'inizio non avendo l'osso o ci fidiamo di quello che ci hanno raccontato perché io ho il sospetto che in tanti casi soprattutto quando si trovavano ossa di giganti si ritrovassero invece animali prestorici ma ripeto magari sbaglio però io sono dell'idea che superato una certa altezza anche i giganti della mia specie omogigantis non ce l'avrebbero fatto perché la biologia del mondo la fisica il cibo è uguale per tutti gli animali non ti permette di superare certi limiti a meno che non hai una gamba che è un metro di larghezza perché per sollevarti di 10 metri dovevi essere alto dovevi avere un piedone tipo di dinosauri tanto per capirci io ho individuato anche nelle isole Falkland che si trovano all'estremo sud dell'America quindi dalla punta finale dell'America del sud lì c'erano un gruppo di 800 almeno giganti perché chi ha esplorato per la prima volta le Falkland le Malvine loro le chiamavano all'epoca ma anche oggi si chiamano le Malvine però chi è stato lì e ha scritto queste storie ha detto che sono scesi dalla nave hanno incontrato questi giganti hanno convissuto con loro per mesi quindi non è un singolo avvistamento ma hanno convissuto per mesi io nel libro tratto tutti questi argomenti particolari nei resoconti storici che noi leggiamo oggi leggiamo chiaramente che dicevano seduti a terra erano alti come uno dei nostri alti un metro e settanta tanto per capirci quindi loro poi quando ci alzavano erano praticamente il doppio quindi in tutto il mondo insomma non proprio così però sicuramente erano concentrati in alcuni luoghi geografici ben specifici almeno quella specie che io ho trovato è giusto dirlo quando noi vediamo degli esseri giganti assieme a esseri più bassi nelle raffigurazioni nei bassi rilievi sumeri dell'antico Egitto stiamo probabilmente di fronte a diciamo non casi di gigantismo ma di importanza di personaggi perché i personaggi più importanti erano raffigurati più alti e quelli meno importanti più bassi quindi questo è anche giusto farlo presente però appunto a parte questo discorso come tu stesso l'hai detto finora ci sono anche casi interessanti proprio in cui non è questo il caso non so se lo sai ma anche tra i Longobardi c'erano dei giganti qui vicino dove abito io a Trezzo sull'Adda io non abito a Trezzo però è abbastanza vicino c'è un piccolo museo e all'interno del museo c'è questa ricostruzione di una tomba di questo Rodkiss Rodkiss era un nobile Longobardo c'è il suo anello in una veterinetta che è un anello grande così e c'è questa tomba che praticamente c'è una foto del ritrovamento e perché ormai le ossa sono comunque state messe da un'altra parte però si vede proprio questa tomba di due metri e mezzo due metri e cinquanta e lo schettro che ci sta anche con le gambe un po' diciamo storte quindi ci sta proprio a malapena questo gigante questo gigante Longobardo è un caso comunque sia reale storico archeologico accertato che poi non tutti magari conoscono però la mia domanda è questa qui perché secondo te ora prendo questo fatto come appunto punto di riferimento ma perché secondo te nel mondo accademico quindi se ne parla poco o si tende proprio a non parlarne di giganti ma in effetti poi me lo sono chiesto anche personalmente insomma su questo aspetto del perché il mondo archeologico il mondo storico non voglia entrare sempre in questo insomma in queste nuove scoperte anche perché quando lo si dice io ad esempio qualcuno mi scrive dice finché io non trovo l'osso non crederò mai alle presenze dei giganti allora io rispondo che dieci anni fa quando si parlava che esisteva una razza invece alta meno di un metro in tempi recenti tutti dicevano no non è possibile poi hanno trovato l'uomo Florence e hanno visto che effettivamente c'erano anche degli uomini che arrivavano a un metro e si sono rigreduti allora aspettiamo l'archeologia che faccia il suo corso aspettiamo la paleontologia che faccia il suo corso perché insomma abbiamo ancora tanto secondo me sottoterra che ancora deve uscire beh d'altronde si sa che comunque il mondo accademico è sempre un po' restio ad accettare certe cose che vengono viste soprattutto dal punto di vista fantascientifico quindi su cui non si hanno delle certezze appunto storiche o archeologiche quindi va bene io do assolutamente per certo che noi siamo stati insieme a una specie per un certo periodo di tempo che io l'ho identificato come homo gigantes che erano sicuramente l'ultimo residuo di una civiltà più pregressa che magari anche prediluviana se la vogliamo chiamare così che era molto più fiorente nella storia e che è convissuto con i primi homo sapiens fin quando poi c'è stato appunto questo grande diluvio universale che ha distrutto chiaramente tutta la loro civiltà però a questo punto ti devo chiedertelo tu il diluvio quando lo collochi perché io so che Graham Hancock per esempio lo collochi intorno al 10.600 avanti cristo in questo modo sì c'è una datazione orientativamente che va tra il 10.500 e l'11.000 avanti cristo ora dieci anni più dieci anni meno non è che ci cambia insomma per esempio Caranzano la colloca al 10.850 avanti cristo vabbè diciamo stiamo in quel range di 500 anni là che effettivamente dai rilivi che sono stati fatti nel mondo lo Younger Drys è successo veramente loro che probabilmente si cibavano di animali giganteschi nel Pleistocene e quindi nella parte finale del periodo quando è successo il libro L'Universale che c'è il disgello del mondo c'era la mega fauna del Pleistocene c'erano mammut che oggi non abbiamo più c'erano cervi di 3 metri che oggi non abbiamo più quindi loro probabilmente si cibavano di questi animali così grandi e morendo la fauna così grande hanno cominciato a diminuire come popolazione intendo e sono lentamente scomparse nella storia fino ai tempi nostri parliamo di 300-400 anni fa che è arrivato il conquistadores e li ha uccisi li ha fatti fuori così come ha ucciso gli indiani d'America così come Cisimaya gli Esdeg tutti quelli che hai conosciuto anche nelle tue ricerche hanno fatto la stessa cosa anche là li volevano portare in Europa per fare per bella mostra e quindi pian piano si sono estinti nell'arco di qualche centinaia d'anni dopo la scoperta dell'America bene dai Edoardo diciamo che siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata è stato un piacere averti come ospite in questa serie alla prossima allora in bocca al lupo per i tuoi prossimi libri sì grazie Giorgio e ci vediamo sicuramente anche sul nostro canale con qualche altro tuo libro va bene? ricorda qual è il tuo canale? Oltre la storia ecco bene ciao Edoardo grazie grazie a tutti